Ciao a tutti e bentornati sul canale. Come promesso dopo il video unboxing che ho realizzato in precedenza e vi lascio il link qui su, oggi vi realizzo la recensione del formaconi della Tescoma. Questo formaconi è, come avete visto nell'unboxing, dotato di svariati utensili, tutti molto utili devo dire la verità, anche se però realizzare i coni e le coppette non è stato molto facile, non è stata una realizzazione davvero semplice. Per questo ho diviso questa video recensione in fasi e vi faccio vedere proprio come funziona, come è all'opera il formaconi. La ricetta prevista dal, chiamiamolo ricettario, chiamiamolo libretto delle istruzioni, è la seguente. Impasto per le cialde. Ingredienti per 7-8 coni o coppette. 85 g di zucchero a velo, 40 g di farina di grano duro, 2 albumi di uova grandi, 30 g di burro fuso, mezzo cucchiaino di strato di vaniglia o un pizzico di sale. Procedimento. Mescolare gli abumi e l'estratto di vaniglia e non montarli. Aggiungere la farina e il burro fuso e lavorare fino a ottenere un composto omogeneo. Lascia riposare la pastella per circa 30 minuti. Consiglio utile. Aggiungere due o tre cucchiai, circa 6 g di cacao per preparare le cialde scure, perché loro fanno vedere che le cialde e i coni si possono realizzare sia a bianchi che al cacao. Vi lascio quindi alla realizzazione dei coni e coppette. Verso gli albumi all'interno della mia ciotola e aggiungo un po' di sale. Monto leggermente formandola una leggera schiuma senza mai montare la neve ferma. Aggiungo poco per volta lo zucchero a velo e continuo a montare sempre con la mia frusta a mano. Aggiungo l'estratto di vaniglia e continuo a incamerare d'aria montando quella frusta. Continuo ad aggiungere il mio zucchero a velo fino a terminarlo tutto, sempre poco per volta. Ho ottenuto un composto che ricorda molto una royal icing, quindi una ghiaccia reale. Aggiungo al composto il burro fuso e poco per volta anche la farina. Continuo a mescolare sempre. Ho ottenuto un composto finale abbastanza compatto, ma è ancora molto liquido. Lo lascio riposare per 30 minuti circa. Passo ora alla fase 2, la realizzazione delle cialde. Verso sul tappetino in dotazione un cucchiaio di impasto e lo stendo con la spatola in dotazione nella confezione, fino a coprire il bordino del tappetino stesso. Non si devono vedere più i quadratini, così come indicato sulle istruzioni. Una volta terminate tutte le cialde, le inforno per 15 minuti circa a 150 gradi in forno preriscaldato. Inserisco la prima, dopo un minuto la seconda, dopo un minuto ancora la terza, dopo un minuto ancora la quarta. Una volta sfornata siamo alla fase 3, cioè la realizzazione dei coni e delle coppette. Realizzare i coni non deve essere affatto difficile, infatti ci provo. Sformo la cialda dal tappetino in silicone e tento di inserirla all'interno del formaconi, ma come vedete non ci riesco perché lo zucchero è cristallizzato e ha reso la cialda molto dura. Quindi provo ad utilizzare la coppetta e come vedete purtroppo ormai è andato. Non riesco a dargli più forma, infatti si sbriciola tutto. Mentre cambiando leggermente le dosi ho provato a realizzare delle cialde un po' più morbide, diciamo così, meno cristallizzate in quanto ho ridotto la dose dello zucchero. Invece di 85 grammi ne ho messi 60 grammi e ho messo dello zucchero però non a velo, ma lo zucchero semolato di canna classico. Diciamo quindi che in questo caso la realizzazione è avvenuta, ecco perché vi dicevo che comunque la recensione non può essere completamente negativa, la realizzazione è avvenuta perché effettivamente il formaconi il cono lo forma, ma la loro ricetta a me non piace perché mi ha dato un risultato pessimo. Alla fine sono riuscita a realizzare quattro coni, due coppette e un taco, un taco, un togo, non ricordo adesso come si chiama il gegato, credo che si chiami togo però. Come potete notare dal video è stato molto complicato per me realizzare i coni e le coppette con questa ricetta perché appunto lo zucchero è tanto e soprattutto è zucchero a velo. Lo zucchero a velo vanigliato è sempre molto dolce e di conseguenza si è cristallizzato quando l'ho cotto in forno. Ho seguito le istruzioni anche per la cottura in forno, il procedimento che è indicato qui sul Depliant. Istruzioni per l'uso, cottura delle cialde, versare un cucchiaio circa 25-30 grammi di pastella al centro di ogni stampo in silicone e distribuirla sull'intera superficie utilizzando la spatola in modo che la pastella sia livellata con il bordo dello stampo e che i quadrati in rilievo siano ricoperti. E fino a qua tutto ok. Mettere gli stampi uno dopo l'altro ad intervalli di circa un minuto nel forno preriscaldato a 150 gradi circa. Inserire il primo stampo nel forno, attendere un minuto prima di inserire il secondo e procedere allo stesso modo con il terzo e il quarto, sempre aspettando un minuto tra l'uno e l'altro. Cuocere le cialde fino a duratura per circa 15 minuti. Quando la prima cialda è cotta, toglierla dal forno e sagomarla immediatamente a forma di cono o coppetta. Procedere allo stesso modo con tutte le altre cialde. E' semplicissimo, cioè è un'operazione davvero semplice e in realtà se si riuscisse a trovare una ricetta adatta si otterrebbe anche un risultato davvero strepitoso. Il problema è che con la ricetta che è in dotazione qui nel Depliant, lo zucchero si cristallizza in cottura nel forno e di conseguenza non si riescono ad ottenere delle cialde, dei coni, non dico perfetti, però decenti. Infatti io ho provato a modificare un po' la ricetta riducendo le quantità di zucchero e più o meno ho ottenuto un risultato semi-accettabile. In realtà non lo è perché dopo che ho formato i coni e le coppette, ovviamente si sono rassodati, ma non sono croccanti, sono abbastanza morbidi, sono, ecco, sembrano quei coni che a volte si acquistano e si tengono nel congelatore e magari quando li si mangia la cialda è morbidina. A me non piace, il cono deve croccare, non sono per niente soddisfatta. Al momento la recensione non può essere completamente positiva perché... Allora, diciamo che la posso dividere in due, la mia recensione. Se devo recensire la ricetta, la ricetta per me è pessima, a me non è venuta e di conseguenza a me non piace, quindi è negativa per questo. È positiva perché l'attrezzo, quindi il forma coni e il forma coppette, quelli funzionano. Il forma coppette un po' meno perché come avete visto la coppetta non è venuta bene, si è rotta, ma quello penso che dipenda proprio dalla consistenza della cialda e quindi diciamo che le do il beneficio del dubbio. Il forma coni funziona bene, tanto è vero che i coni con la seconda ricetta, diciamo con la mia versione, sono venuti, cioè la forma c'è stata. Positivo il fatto che il forma coni e la forma coppetta funzionano perché realizzano effettivamente un cono e una coppetta, ma i tappetini sono fantastici, sono della dimensione ideale e sono proprio della qualità giusta perché comunque conosciamo bene Tescoma e Tescoma fa prodotti veramente buoni. Quindi al momento non sono pienamente soddisfatta, sto cercando altre ricette, anzi se conoscete delle ricette di cialde che non avete mai provate ma che volete provarne, lasciatemi un commento qui sotto, vediamo di provarla e vediamo insieme che cosa ne esce. La mia recensione termina qui, spero che il video vi sia stato utile, che vi sia piaciuto, lasciatemi tanti pollici in su e mi raccomando ricordatevi di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti per non perdere i prossimi video. Ciao e alla prossima!